Io sto con la prestazione che è stata una buonissima prestazione, non meritavamo certo di perdere e quindi la prestazione, le occasioni, il risultato, anche se alla fine poteva magari essere diverso però consideriamo la partita, una bella partita, tante occasioni per il Bologna e quindi questo è il dato che più ci soddisfa, ecco, la partita. Oggi dopo l'1-0 abbiamo avuto occasioni alla gol, abbiamo pareggiato, nel secondo tempo abbiamo avuto sull'1-1 con Kreen e Garix situazioni per andare in vantaggio e quindi noi abbiamo fatto anche sabato scorso la partita contro l'Atalanta, abbiamo avuto comunque diverse situazioni importanti, l'Atalanta ha avuto due situazioni neanche da gol e hanno fatto gol, questo è il Bologna.